da sabato scorso non c'era l'hanno fatta in settimana non lo so stanotte poi ieri non lo so ma in inglese il papa e il demonio meloni e soprattutto mezzo italiano e mezzo inglese penso il seno di stanotte ma lei frequenta spesso qui ci viene insomma quando è possibile veniamo non lo so cioè la protesta d'accordo ma voglio dire questo è un bene pubblico di tutti asimiliano e e e e e e e e Grazie.